In questo momento siamo sperci nel bosco di Bucciano, siamo nella vetta più alta, nella montagna. E' bello qua, bellissimo, montagne toscane, sole, il tramonto, manca la ragazza. Va bene, va bene anche così. Ma che dici? L'ha pianta di qualcuno? Arrivo, fratello! Andiamo, andiamo, andiamo! State qui con una donna, con una moglie, sta bene, i baratuzzi, natura.